buongiorno sono letizia ciampa e o ermione o bloom o daenerys non lo so fate voi in quello che preferite io resto a casa come tutti quanti quindi cerchiamo di seguire le regole e l'unica cosa che vi posso dire o un consiglio che vi posso dare abbiamo tutto il tempo per guardare harry potter abbiamo tutto il tempo per guardare il trono di spade quindi raga più di così ma che dobbiamo fare parere mio personale non voglio fare polemica ma denaris è morta proprio male ve lo dico comunque vabbè detto questo niente cerchiamo di essere uniti il più possibile e speriamo che va tutto bene un bacio grande e un abbraccio virtuale a tutti bacione ciao